No, non ha neanche blinkato, era un hit quello Ah niente Nice Mi ha fatto schifo che non trapassa, ma veramente cazzo Dai su cavallo del merda, ti odio Abbiamo una lì, una lì, una lì Obbladì, obbladà Perfetto, facciamo il gen, così intanto misteri carica il blink Non ci arrivavo col secondo sfortunatamente Nice No World Wide con la Nurs, senza senso, troppo forte Sì, ma hai visto che mi sto giocando? È una delle mappe peggiori per la Nurs questa Anzi, è la mappa peggiore per la Nurs C'è qualcuno a quel gen lì? Fuck Fuck, mi sono andato Buono Ed ecco qua il 50-50 Il problema principale di questa mappa Con la Nurs Perché hanno urlato tutte? Ah la Cass Cura vulnerabile, non credo di poterla utilizzare mai tanto Ehi Batman, vieni qua I am Batman Da na 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 Vai a trovarlo mo Ok, meno male Stavo per fare un blink totalmente blind ma Ok Bravo Mi sa che mi tocca camperare un po' di più Eh niente Non mi ha blinkato attraverso Alcesi Sì, questo killer è il killer più forte del gioco A mani bassa è il killer più forte del gioco Però è anche uno dei più difficili da imparare bene a giocare Soprattutto se sei all'inizio inizio Però considera il freeze Vuoi iniziare a giocare gratis? Non devi neanche conquistarlo Eh ho sbagliato E io intendo che cazano una cosa sia intendo che cazano Sì all'inizio per imparare proprio l'inizio Quello lì sta facendo il gen lontano A questo punto mi cerco di difendere al stat region Vabbè dai Ma bling è un po' più lontano C'è qualcuno che ha o off the record o stravolgimento Credo sia stravolgimento però Da Noi in corte entrambi Non ci sarei dovuto arrivare lì Da niente Se non avessi avuto questa mappa Sarebbe stato un po' meglio Il problema è che adesso non voglio neanche lasciarli resettare a gratis Cosa che faranno E non mi dovrei allontanare dalla region Però ci devo provare Il fatto è che non ho neanche preso un invito Un po' mi sta Mi sta Abbassando le potenzialità Ok Ho preso lui No Adesso mi finisco con il gen di là Non è stato buono sta cosa Mi è iniziato a droppare il pallet Ho visto le scratch marks che ci stavano Vediamo se riusciamo Uno è morto almeno Devo controllare quel gen all'angolo che è il più avanti Però calcio prima questo Vabbè gioco di merda Gioco di merda Mi blinki sopra cazzo Ti prego l'odio Sei insopportabile porco 2 Porca miseria ragazzi Range dependent In che senso range Dipendente dalla distanza In teoria vuol dire Letteralmente Ok due morti Questo è resettato a 0 Ottimo Ok Dovremmo aver vinto ormai Non credo possono più recuperare in nessun modo Range Dovrebbe essere distanza Dependente Dipendente Map Se no c'è Map dependent Che è dipendente dalla mappa Da range Sarà la portata O distanza O distanza Comunque Un range Ed attack E un attacco a distanza Per esempio Porco Tu che palle Che mi prenda l'invito Va Tanto ratterà sicuro A stravolgimento Non lo potrò mai Beccare Che la range Dependente Per esempio Ho inteso che è fortissimo Da vicino È fortissimo Da vicino Da lontano Da creare Quindi range Dependente Viceversa Più o meno Si C'è la sole a fine Sopra il disco Mi chiami in un certo modo Come Come è già chiuso Gennaro Bullo Si è appena evoluto In ratat Oh invece L'ha salvato Che palle Però Adesso devo cercarli Entrambi Spera anch'io Che migliorino Un po' L'endgame Onestamente Questi sono i killer Meno dipendenti Dalla mappa Non ce ne sono Troppi In realtà Forse Peno male Tutti Sono dipendenti Da qualche mappa Qualche mappa Sono migliori In altre sono peggiori Vrate No Anche il Vrate Dipendente Dalle ma Tipo Nell'Aris è forte Ma è anche Debole allo stesso tempo Per la quantità Di Volt Mappe chiuse Guadagna tanto Perché è più difficile Intravederlo Ti esce dietro il muro Nella stealth Ti hitta No Anche il Vrate Sono bene o male Tutti hanno Allora Non è che sono Map Dependent Alcuni Ma hanno Chiaramente Delle mappe Molto preferite E magari In altre tipologie Di mappe Fanno completamente Cacare Quindi bene o male Ti direi Quasi tutti Sono Map Dependent Allora Perché dove stavo Accendo l'Adapt Gli avrei lasciato C'è chi è tanto C'è chi non così tanto Invece Però anche lui Capito Mappe chiuse Considera I killers Che hanno Una possibilità Di stealth Le mappe chiuse Sono forte Per loro Ciao 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 Ciao